Io non sono un gran disegnatore, ma ho fatto un disegno che riproduce il mio ultimo sogno felice. Eccolo qua. Eh sì, sono tratti un pochettino semplici, ma rafficolano davvero qualcosa di allegro. Un clown con il suo bastone, solo che è in bianco e nero, perché io ormai sono grande e come tutti quanti sanno, i grandi sognano solamente in bianco e nero. Sono solo i bambini che riescono a sognare a colore e quindi l'unico che mi può aiutare ad essere magari un bambino o qualcuno che ancora riesce a sognare a colori. Te ci riesci? Allora guarda, prendi del colore, facemi il rosso, prendilo e lancialo qua verso il quadro. Perfetto. Il giallo? Perfetto. Prendete gli altri colori e lanciateli magari attraverso lo schermo e... Incredibile, incredibile, perché grazie a voi andiamo a controllare. Adesso il mio clown è completamente a colori e andiamo a controllare dentro la cartella perché davvero qua non c'è più nessun altro tipo di colore. Tutto fosse colore è arrivato sul nostro sogno del clown colorato.